Oggi ragazzi per la prima volta apriremo un pacco gigante di Temu Temu è una piattaforma dove puoi acquistare un sacco di cose a prezzi bassi E' vero ragazzi, noi non abbiamo mai acquistato su Temu Ed è la prima volta che acquistiamo su Temu E grazie agli amici aperiti che ci hanno detto che è un buonissimo sito Per la prima volta li abbiamo acquistati Si eravamo curiosissimi Abbiamo oltretutto guardato quasi tutti gli articoli che c'erano E poi abbiamo scelto questi E abbiamo scelto questi che c'è alla fine li ha scelti da mamma Allora ragazze si effettivamente voi non sapete che cosa ho acquistato Perché l'ho fatto di nascosto da voi per farvi una super sorpresa A scuola Ho quindi acquistato articoli per la casa e kids per voi Quindi ce ne saranno delle belle Speriamo perché ancora non conosciamo l'entità del prodotto Ma sicuramente sono sicura che non rimarremo comunque delusi Una cosa importantissima prima di prendere i pacchi E che noi abbiamo un codice sconto che poi metterò in descrizione E con questo codice sconto i nuovi utenti Quindi quelli che si iscriveranno per la prima volta Utilizzando il nostro codice sconto avranno lo sconto del 30% Mentre avranno uno sconto del 90% che è tantissimo e quasi il 100% Se acquisteranno i nostri prodotti Quindi quelli che abbiamo acquistato noi Quindi ragazzi mi raccomando andate a guardare il codice sconto Che c'è in descrizione e utilizzatelo mi raccomando E se non siete iscrivetevi subito a TV Bravissime bimbi allora siete pronte? Sì! Allora Vanessa prendi questo super mega pacco Ma attenzione c'è una sorpresa No 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 Vanessa Dietro il divano c'è un cartone Prendilo perché quello sarà il primo pacco che dobbiamo aprire Bene vai Perfetto bellissimo Bravissima Forse Vanessa se ti fai aiutare da Anastasia Dai su vediamo Che cos'è? Che cos'è? Vanessa non lo riconosci? Come non lo riconosci? Ma è il portatrucchi È il portatrucchi ragazzi guardate che bello È bene sei contenta che è gigante Allora guardate che bello questo portatrucchi Posso mettere anche io i miei trucchi? Eh no questo è per Vanessa Per te ci sarà qualcos'altro È un regalino a testa Fallo vedere Vane Allora da qua si c'è un'apertura Quindi qua si mettono i trucchi Poi potrò altri trucchi e li metto Sì anche su Temu ci sono tantissimi trucchi Sì un sacco Sì Qua c'è un'altra apertura E abbiamo dei cassettini meravigliosi Dopo Vanessa faremo vedere il prodotto Con all'interno i trucchi che hai già Va bene? Eh? Consenta? Ti piace Anastasia? Quando sarai un pochino più grande Avrai dei trucchi anche te Lo prenderemo anche te Ma adesso Anastasia è super eccitata Per l'apertura di questo mega pacco Questi due sacchettini li abbiamo messi da parte Li apriremo alla fine Perché sono quelli kids Oddio è gigante questo Questo è super gigante Non si riesce nemmeno ad aprire Olè Oddio Benissimo Ecco questo qua Ragazzi guardate l'efficienza del sacchetto Si apre e poi ragazzi voi lo potete riutilizzare con un sacco di altri oggetti È vero sono proprio comodi questi sacchetti Sono grandi, sono ampi, sono spaziosi E si possono riutilizzare perché la loro chiusura è facile e semplice da usare E veloce Intanto il gatto sta cercando il suo regalo che non c'è ma ho notato che su Temu ci sono tantissimi articoli per gatti, giochi, di tutto Per la tua elettatura del gatto E c'è ancora lo sort dove lui aveva il vestitino e dopo Natale Si è vero Poi ci penseremo Compreremo anche per Gasper Hai pescato uno Allora il primo articolo l'ha preso Valestina Vediamo un po' che cos'è Ah questo è un regalo che mi sono fatta io Perché è un soprammobile E guardate che bella Sembra tipo il caffè che esce Non sembra È una tazzina con del caffè che esce e che rimane sospesa in aria Ma guardate che bella che è, meravigliosa E questo se lo metti sotto e si appiccica Si esatto potrebbe essere Non è carino? Si È bellissimo Ragazzi in descrizione ci sono tutti i link degli articoli che abbiamo acquistato noi su Temo Esatto esatto Quindi se vorranno acquistare uno di questi articoli avranno oltretutto lo sconto del 90% Bravissima Cioè praticamente a costo zero Ragazzi guardate Gasper Gasperino Gasperino Vuoi anche tu un regalino Anastasia tocca a te La mia Guardate che ho pescato proprio la mia Bravissima Anastasia questo è il tuo super regalo Ma questo dai più Mamma che meraviglia Facci vedere Questo è Questa è per il cuscino Si esatto Guarda sono questi per il cuscino Guardate Si Così Bellissimo Anastasia Quindi cosa abbiamo qua Due copricuscini Si Che bello wow Tenebroso Vabbè per adesso si poi quando avrete le vostre camerette nuove sarà di Anastasia E questo è il coprimino Guardiamo un po' Meraviglioso amore Ecco guardate Così si apre Si amore Certo E' un coprino Si Qua c'è la faccia del gatto Non si vede bene Aspetta un attimo Eccola qua Mamma mia che bello Ani Ottima scelta Bravissima Mi piace un sacco Quando non c'è Gasperino No ma dopo lo andiamo a mettere Quando non c'è Gasperino C'è lui Il gatto nero Mi metto così Ah che bello Dopo andiamo a metterlo eh Perché dopo proviamo tutti gli articoli Va bene Si Sei contenta Si Va bene Altro articolo Vai Vanè Tocca a te Olè Vediamo un po' Ah Apri apri Adesso ti dico che cos'è Questo oltretutto è una cosa fantastica E' un tappetino Che serve da appoggiare sul tavolo Sul piano E serve per impastare Avete capito Si E' comodissimo E' in silicone Quindi è super lavabile In dotazione c'è anche la palettina Quella per stendere gli impasti Per raccogliere No è una figata Veramente Perché ogni volta vai E magari quando fai la pasta frolla Per fare la crostata Si sporca il tavolo Poi devi grattare con la sfugnetta Invece questo qua E' tipo quello che usite Per andare a scuola Vero Ani Esatto Lo puoi piegare Lo puoi strizzare Puoi farne quello che vuoi E lui non si rompe Puoi lanciarlo dappertutto Soprattutto quando è sporco Bello Bellissimo Non vedo l'ora di usarlo Anzi lo userò stasera Vai Nastasia Vediamo un po' cos'è Vediamo un po' cos'è Cos'è che non mi ricordo Ah questo è simpaticissimo Questo è per il bagno E' troppo troppo simpatico Questo Vanessa E' un adesivo Che si attacca Praticamente sopra Sopra il coperchio del water Ed è troppo simpatico Vediamo un po' Tiralo su bene Aiuta la Vanne E l'immagine Praticamente questo si mette Al di sotto Del coperchio del water Quindi quando tu sollevi Il coperchio C'è lui che fa così Con il naso Che si tappa il naso Come per dire Mamma mia che puzza Però io direi di metterlo fuori invece Non dentro Sapete perché Perché dentro Quando si scarica Si potrebbe bagnare E quindi potrebbe staccarsi Dopo proviamo Tutto Così perché dice Ho già capito di paracacca Eh ha già capito Che in quel posto lì C'è un po' di puzzetta Vai Vanne Vediamo un po' Vanessa è terrorizzata Ah questo è sempre per il bagno E sapete che cos'è? Vi piace? Ah ho capito Quello che attacchi la cartigienica È un portarotolo di cartigienica E questo? Eh quello si attacca al muro Poi guardiamo bene come funziona Comunque questo è un portarotolo Vi piace? Sì È forte È bello eh E visto che avremo due bagni nuovi Anzi tre Potremmo utilizzarlo in uno dei tre bagni È bello In corda Ti piace? Questo qua in corda? Va bene Sì Vai Ani Questo invece Per la cucina Io so che cos'è È il tappetino È il tappetino Per la cucina Lo mettiamo Bello Questo si può lavare Anche in lavatrice Visto il tessuto Bellissimo Mi piace un sacco A te piace Ani? Sì Ha provato Vane? Sì Dopo lo mettiamo giù E lo proviamo subito Con i nostri piedini Poi si spiega Già subito Perché tu capisci Perché fai così? Sì Deve stare dritto Poi però Ok Ok Aspetta Hai capito tu? Certo Io so che cos'è Ok Queste sono Una cosa Fighissima Sì Non è per me No Questi sono Dei coperchi Che si allungano Quindi In base alla dimensione Della ciotola Tu glielo metti sopra E lo puoi Modellare Tipo che noi Non abbiamo Non troviamo più i coperchi Esatto Bisogna mettere questi Sì no Guarda Sono fantastici Eh Vedi che si allunga Adesso senza romperlo Ovviamente non è che lo devi rompere Però Adesso li provo Perché ho quelle ciotole bianche Trasparenti E non ho i tappi Per quelle ciotole Certo amore Anche quello là Metti la cartigina Ma questo è piccolino È piccolino Perché ci sono le ciotoline piccoline Io le ho le ciotoline piccoline Sì Sì Ok Lascia qua Ah quelle colorate Brava Ah sì Quello che io so Tipo per fare lo slime Anche sì Vai Anny tocca a te Vai Vai Questo l'ho preso E so già anche dove metterlo Ok Piano piano apri Guarda che bello che è Ma guardate che bello Ok dopo cerchiamo di capire anche che cosa significhi Ma mi piaceva troppo l'immagine E ce la vedevo No Qua dietro Dietro la playstation Esattamente in questa parete qua Io ce lo vedo qua Qua così Dai su che stiamo quasi per finire Poi c'è kids Vediamo Oh questo è il mio preferito Tra le varie scelte casalinghi Ok E sarà anche il vostro preferito Adesso vi spiego perché Sì Anzi poi proveremo subito a usarlo Questo è una fetta patata E fa le patatine di quella forma E fa le patatine di quella forma Ok dopo le facciamo Esatto Così perché io ho un po' di fame Ma dai che strano Ma dai che strano Con le patatine Esatto Tu lo affetti E facciamo le patatine Dopo proviamo tutto Poi facciamo le patatine Ma va bene amore Adesso cucciolini e cuccioline Siamo arrivati al momento Kids Brava Vanessa Brava Nastadia Per ora siete soddisfatte degli acquisti Sì Quanto voi consigliereste Temo i vostri amici I vostri parenti Io tantissimo Io lo consiglierei al 100% Anche perché Il primo reso per ogni ordine È gratuito Ma non solo Pensa che Se tu acquisti un articolo E poi lo rendi E in quel momento Che lo rendi Il prezzo è sceso C'è l'adeguamento del prezzo Quindi ti rimborsano La differenza di prezzo Cioè È fantastica questa cosa Io penso che Solo Temo Possa fare una cosa del genere In più Ma quanto è stato veloce Voi non lo sapete Ma io l'ordine L'ho fatto una settimana fa Dieci giorni fa Al massimo Quindi ci vogliono 7-10 giorni Per l'arrivo dei prodotti Che ne vale Assolutamente la pena Soprattutto per i sacchetti Fantastici di Temo Che a me piacciono un sacco Perché veramente Questi sacchetti Sono troppo Troppo Riutilizzabili E utilissimi Va bene Adesso abbiamo terminato Con i casalinghi E passiamo Al kids Mettiamo tutto il kids Qua sopra Vallo Vanessa È tuo È mio? Eh sì Vediamo un po' Quanto sono belli Vedi Non lo metto adesso Vero che tu mi avevi chiesto Questi Sì Durante il giorno Puoi tenerle libere Ma la sera Le puoi coprire Le dita Sono bellissimi Guarda veramente Saperlo Te le prendevo anche a te Ma non è detto Che non possiamo fare Un altro ordine Anzi Penso che farò Un ordine al mese Io su Temo Perché mi piace troppo Poi vi faccio vedere Il loro sito E impazzirete pure voi Ora tocca ad Anastasia Vai Anni Allora aspetta Perché ti Ecco Il tuo è questo Questo qua Vediamo un po' È morbidissimo Fa sentire Bello No ma è morbidissimo No ma è morbidissimo Ragazzi ma che cosa usano Anni Questa è la tua magliettina corta E il pantalone C'è veniva tipo fino a qua Sì Con la canottiera sotto Bellissimo amore Per San Valentino Per San Valentino Secondo me Il rosa è il mio colore preferito Il rosa è il tuo colore preferito La mamma lo sapeva Dopo proviamo anche questo Amore ti va? Eh? Quanto sei bella E quanto è morbido No ma ragazzi Cioè veramente Ma come cosa usano? Mi dispiace per voi Dovete prenderlo questo Assolutamente Cioè ci dovete di sì Cioè sarà il mio pigiama Vorrei Addirittura il tuo pigiama Sì Tutto con me A scuola sarai morbidissima Con questo eh Calda e morbida Sì amore Eh sì Vai Vane Vado Yes Cosa sarei mai Cosa sarei mai Ma che cosa è morbidissimo Vediamo Ma veramente Che bello Giralo che non vedo il davanti Quindi abbiamo Una canottierina California Los Angeles Questo è È un top Hai ragione È un top Quando fa Più caldo Cioè tra poco Esatto Sì Il pantalone Posso usare come di tutta A scuola Bellissimo Il colore è stupendo Colore cammello Ma sono due Amore certo C'è la felpina Sopra Il pantalone Il top Ma è morbidissimo Fa sentire Vedo lo che arriva l'estate No questo lo puoi già mettere Quando andiamo a fare la prova Nella nuova palestra di pop Usi questo Se vuoi Anche con questa Certo Sei contenta Ti piace Bellissimi Uh anche Natalia Mi sa che ci siamo Proviamo dopo Eh amore Facciamo vedere a Temu Come stai bene E a tutti i nostri follower Eh va bene Io invece vi metto Certo amore Quindi ragazzi Adesso ricominciamo Un attimino Vi rifaccio la domanda Quanto consigliereste Temu Infinito 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 anch'io No veramente Ma poi soprattutto La qualità del prodotto Del tessuto Ma ragazzi Ma il tuo poi è super morbido Sì infatti E i guanti di Vanessa Anche E anche questo È bellissimo Ti piace amore Sì Sono contenta Sì amore È morbidissimo E poi hai notato una cosa Che nonostante il viaggio Non sono stropicciati Sì Cioè non sono stropicciati Neanche il tuo Quindi il tessuto è fantastico Vuol dire che quando lo lavo Non si stropiccia Wow Quindi compreremo solo da Temu Da oggi in poi Anche l'abbigliamento Allora Ci sono prezzi bassissimi Bassissimi Veramente Veramente I mischi sono bellissimi Comprare su Temu Fa venire l'allegria Allora Mentre Vanessa Ritira la sua super tuta Che poi però indosserà Anastasia apre Il suo ultimo regalino E con questo Concludiamo Gli acquisti su Temu Cos'è amore Allora Vediamo 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 questo Questo che è un elastro Che bello Bellissimo Perché io ho sempre caldo Sì Con questo ti puoi fare Sei noti Sì Amore Amore Lo rompi Madonna Ma veramente Gigante È incredibile Wow Vediamo un po' Tra poco Wow È tutto arancione Che bello Un mondo arancione Bellissimo Vediamo un po' Vane Poi in estate E affettiamo una patata E la proviamo Vanessa vuoi riempire Anche il tuo Dai va bene Allora Andiamo a mettere il tappetino Ah tu sei giusto Devi fare il giro del mondo Girati Fammi vedere Bellissimo Ani Aspetta perché il fiocco Non ha più una forma Ma è attorcigliato Insieme all'elastico Aspetta un attimo Eeeh Più o meno Eccoci qua Dai va bene Fatti vedere Fatti vedere Ma quanto stai bene Con la coda Che non te la fai mai 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 Wow Che bella bimba Ma chi è questa bimba Guarda che cadi Andiamo a provare Anastasia Vieni Ti salvo io Ho il sport Per romperti la gamba Vanessa andiamo a provare Un po' di cosine Ok cuccioline Allora ci siamo trasferite In cucina Per provare E testare Alcuni prodotti Che abbiamo acquistato Allora il primo È la tovaglietta Che ovviamente adesso Non mi devo mettere a impastare Perché non ho nulla Da impastare Però lo possiamo utilizzare Come base Per Lavorarci sopra lo stesso Questo è il taglio a patate Ok prova Wow No ragazzi Anastasia È esattamente Quella delle patatine Che piacciono a te Sì però Quando le metti in forma Sono cucciole Mia chissà che bontà Vedi Guardate il taglio No ma che figata Questo articolo Mi piace un sacco Io appena l'ho visto L'ho acquistato Perché non l'ho mai visto Da nessuna parte Magari non l'ho visto Ecco D'acqua è un pochino più spessa Però mi piace troppo Veramente Guardate ragazzi Ancora non sono pronti Ma poi dopo Vi faremo vedere L'initato finale Mmm Gnam gnam Io non vedo l'ora Adesso Andiamo a far vedere Il tappetino Anastasia Ah poi Aspetta hai ragione Sì continuiamo qua Allora Abbiamo preso tre contenitori Sì Di tre misure diverse Di tre misure diverse E proviamo subito i coperchi Mi raccomando Fate aiutare da Vanessa Ani Allora guarda Aspetta E voilà Vediamo Si è chiuso Si sta chiudendo bene Perfetto Ora guardate C'è anche uno smile sopra Sì io l'ho venuto Io no Oh ragazzi Vediamo Con questa misura Piccina piccina Abbiamo il tappo giusto Fantastico Ma ragazzi Ma non sapete Il risparmio che avremo Sulle pellicole Che utilizziamo Per chiudere Vero? Adesso anche questo? Sì Bravissima Perfetto Poi abbiamo altre misure Però non abbiamo tutti i contenitori Delle stesse misure Ma potremmo un giorno averli Perfetto Bellissimo Adesso ho messo le patatine In frigitrice d'aria E poi assaggiamo Come saranno venute Ani Mi fai vedere il tappetino Mi dici se è comodo? Sì Vediamo un po' È comodissimo È morbido? Comodo Sì allora Non è per sdraiarsi Però va bene È comodo Poi camminateci su Ditemi se si sposta O se aderisce perfettamente Al pavimento Ma sì Aderisce Aderisce Bene Molto carino Vero? Anche i colori Ma adesso Anastasia Dove andiamo? Andiamo a mettere L'adesivo sul water Ma è troppo forte Che bello Che simpatico è Eh? Cioè io vado Per dire Mamma me la fa la carta Vediamo papà Quando va in bagno E dico Ah è vero C'è qualcosa che non va Vediamo papà Quando va in bagno Troppo troppo simpatico Ottima scelta Ma guardate che bello Ti stavano togliendo No? L'hiamo scoperto Che la plastica sopra Si doveva togliere Eh? È perché Rimani Eh sì Praticamente abbiamo tolto La plastica trasparente sopra Ed è rimasto il disegno E' ancora più utile Poi poi Si vedeva che era un po' Sofficciato Esatto No guarda Ne comprerò altri Lo sapete? Anche tutti Tutti Li mettiamo in tutti i water Perché abbiamo Perché noi abbiamo solo Meglio che non lo diciamo Quanti bagno abbiamo Lo prendiamo e lo attacchiamo qua Va bene No non so La attacchiamo a casa Eh ragazzi Mancano delle cose bellissime Che sono Gli abiti Il trucchi E il copripiumino Anastasia Quindi adesso ci tocca andare su un attimo Dai Rimbe posso entrare? Sì Siete pronte? Oh Wow Bellissime Mi siete cambiate Mamma mia Anastasia Immagina la morbidezza che hai addosso Come ti trovi? Bene Stai benissimo La tua magliettina è corta Sexy E tu Vane come ti trovi? Bene Oh sei bellissima amore mio Ti piace? Ti sta proprio bene questo colore Ma vogliamo parlare del copripiumino Con il copripuscini? No ma sono bellissime È bellissimo Fa un effetto micidiale Stupendo Ora posso toccare i batti Ma hai messo in ordine i tuoi trucchi? Ah sì Tre Due Uno Wow Questo è ordine Finalmente Non mi sembra vero Questo era là Poi avevo questa cassettina qua rosa Sì Che hai regalato ad Anastasia Sì Infatti ora è meglio perché a lui se la vede non può prenderla Cioè pensa No Meno che non riesce ad aprire il cassetto Magari da lontano pensa che ha aperto ma poi vede e è chiuso Comunque questo è ordine ragazzi Qua devo lavare infatti dopo lavo le spugnette perché sanno leggermente sfogli Ah ma si possono lavare le spugnette? Sì Con il sapone diventano morte e bianche Ma pensa Il colore è loro Bene Qua abbiamo messo altri rossetti Le creme per la skincare all'inizio Benissimo Riuscite a ordinare molto meglio Infatti guardate i cucciolini È ordinatissimo Brava Sono proprio contenta Adesso ti manca un portapennelli Eh sì Vero? Di vetro Di vetro Quadrato Va bene Vediamo di trovarlo Anche per questo Benissimo Allora cuccioline Io direi che il video può terminare Ma soltanto dopo aver assaggiato le patatine Che andiamo subito ad assaggiare E poi terminiamo questo fantastico video Ok Eccoci qua Guarda che sono calde Guardate ragazzi la forma Perfetta Sì perfetta Eh guardate che roba No vabbè Io direi che ci siamo Sono bollenti Ma sono bollenti Come fai a mangiarle? Non mischiarle con quelle crude Adesso le facciamo tutte Allora cucciolini Io direi che possiamo È talmente golosa Che riesce a mangiarle Cuccioline cuccioline Il video è finito qua Ma mi raccomando Non dimenticatevi di iscrivervi su Temo Con il nostro codice sconto Il link in descrizione Da cui avrai il 30% Oppure del 90% Se acquisti i nostri articoli Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video Ciao Ciao E' arrivata mezzanotte Le campane sono in festa Voglio spiare Papbo Natale Non ci vedo Niente di male Presto Anastasia Corriamo giù Ma Ma